Il sindaco Torquato minimizza la polemica dei tifosi della Nocerina che avevano chiesto al primo cittadino di Nocero Inferiore di poter usufruire di uno spazio comunale per svuotare salvadanai adibiti alla raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva neonatale. Vorrei assolutamente minimizzare una vicenda che se non paradossale sarebbe dal vero risibile. La questione è molto semplice, avevano preannunciato il dottore Barbarulo e alcuni esponenti della tifoseria la richiesta di utilizzo della struttura di Vialoria che è un centro sociale per gli anziani e per i disabili e mi sono limitato a sollecitare di chiedere all'ufficio di competenza l'autorizzazione. L'autorizzazione non è stata rilasciata per ragioni logistiche ed organizzative perché si è trattata appunto della presenza di centinaia di persone in un luogo che raccoglie altro tipo di attività e quindi che si poteva organizzare diversamente per tempo quando mi è stato comunicato che la raccolta o meglio l'apertura dei salvadanai si sarebbe fatta in piazza ho detto che potevano tranquillamente stare all'interno del comune e recarsi presso la sala gruppi quindi è un'autentica sciocchezza quella che è stata messa in giro mi spiace che però abbia assunto toni da insulto e da totale travisamento dei fatti e questo chi fa il medico in una struttura pubblica dovrebbe saperlo bene quindi se non mi sorprendo dei tifosi ci stanno ragazzi giovani che delle volte parlano anche sopra le righe però chi si intesta il compito di fare il padre spirituale della tifoseria per quanto per meritori fini dovrebbe comprendere che il ruolo pubblico è il ruolo pubblico e si rispettano dei tempi e dei criteri organizzativi quando c'è da difendere la città dice di essere sempre in prima linea il sindaco Torquato e non solo per motivi calcistici anche per questioni più delicate ha raccolto per esempio l'appello dei medici della TIN e Pediatria dell'ospedale Umberto I che ieri attraverso le telecamere di Telenuova avevano lanciato un messaggio per la carenza di medici in reparto il primo cittadino nocerino ha questa mattina raccolto l'appello ed ha chiesto all'ASD un incontro con il neodirettore dell'ospedale nocerino per chiedere risposte e soluzioni visto che lo stesso problema pare riguardi anche il reparto di ostetricia e ginecologia sembra intanto che a seguito dell'SOS lanciato dal personale medico allo stremo l'azienda sanitaria salernitana abbia pronta una richiesta di disponibilità ai medici di base del territorio a svolgere turni notturni in reparto quando c'è stata da difendere la TIN io ricorderei al dottore Barbarulo che ha detto che lui non voleva le istituzioni parole sue quindi non parole nostre eppure le istituzioni si sono messe a disposizione seppure all'ultimo minuto rendendo disponibile la sala consigliare il dottore Barbarulo ha interessato personalmente il sottoscritto che è andato e alla sede ASLA all'epoca a Via Ricco e a Salerno per difendere e scongiurare il rischio di chiusura della terapia intensiva ma ripeto io minimizzerei enormemente la questione perché ha preso dei toni paradossali che se posso comprendere in qualche modo ma non giustificare ovviamente da parte della tifoseria non comprendo per niente se ciò viene fatto da parte di una persona matura di età e che ha responsabilità medico-ospedaliere